buongiorno agli ascoltatori sono buongiorno buonanotte ancora è tutto completamente buio mentre va in onda la prima edizione in diretta per chi ci segue appunto nottetempo di occhio al caffè la resegna politicamente scorrettissima di libero e sono due i temi che oggi dominano i quotidiani allora per un verso amas prosegue la sua strategia di ricatto sugli ostaggi sono state rilasciate altre due persone e questa è una notizia eccellente naturalmente chiunque abbia il cuore al posto giusto non può che rallegrarsi di questo però comprendete bene come prosegue a questo tira e molla ti rilascio una persona te ne rilascio due te ne rilascio altre due ma tiro in lungo sulla trattativa e diciamo israele si ritrova nella situazione di essere diciamo così bloccata frenata nella sua azione di terra e anche gli stati uniti giocano diciamo così una doppia parte per un verso forniscono armi e diciamo così irrobustiscono il supporto militare per altro verso però la casa bianca chiede ottiene a gerusalemme un ulteriore diciamo dilazione diluizione nel tempo della partenza della operazione militare vera e propria partiremo da qui e come sempre ormai da dalla mattina dell'otto ottobre quella successiva alla strage del set vi faremo anche una rassegna delle ambiguità e oggi sul podio ci sono i soliti tre unità avvenire e fatto quotidiano sul podio negativo sul podio delle cose opache l'altro tema riguarda la tornata elettorale allora la sinistra ha un unico premio di consolazione ma era francamente scontatissimo che a foggia potesse vincere ed è in effetti molto avanti la coalizione rosso grillina messa insieme in tutta la puglia dal governatore emiliano ma per il resto la sinistra prende schiaffi dappertutto prende schiaffi in trentino prende schiaffi a monza nonostante le condizioni che erano le più favorevoli per la sinistra perché l'affluenza era molto bassa attorno al candidato cappato si era coalizzato tutto il coalizzabile e diciamo il centrodestra non è che avesse brillato per mobilitazione elettorale anzi ciò nonostante adriano galliani ha stravinto nel collegio allora qui accade una cosa magica sui giochi ci vorrebbe un mago il mago silvan toni binarelli quelli che facevano sparire le cose una cosa che fino a ieri era presentissima cioè l'attesa del risultato di monza oggi puff sparisce dai giornali quindi voi immaginate che cosa sarebbe successo in caso di vittoria di cappato e avremmo avuto titoli a nove colonne cambia il vento finita luna di miele gira l'opinione pubblica invece avendo vinto galliani la cosa sparisce sul corriere della sera un riquadrino sul repubblica un altro riquadrino sulla stampa niente in prima pagina quindi diciamo la famosa attrezzatura dell'ascoltatore tipo di questa rubrica e quindi essere sempre dotati di una lente di ingrandimento potentissima o meglio di un microscopio ad alta precisione diventa è una strumentazione praticamente obbligata per trovare la notizia sui giornali vabbè almeno almeno sorridiamo e questo naturalmente non accade per libero che invece mette la cosa in prima pagina ed è un'apertura spiritosa perché c'è la foto di conte e schline sotto il titolo non vincete mai la disfatta di schline e conte galliani eletto nel seggio del cav e al libero dice penso sempre a lui gioia di marine pier silvio il leghista fugatti stravince in trentino centrodestra oltre il 50 per cento questa l'apertura di libero poi vedremo tutti gli altri temi sul nostro quotidiano il giornale ha diciamo così un richiamo galliani e fugatti il centrodestra vola ma il titolo principale è diciamo enfatizzato per il varo di due decreti delegati i decreti legislativi i primi decreti legislativi quelli diciamo così a costo zero che derivano dalla delega fiscale e il titolo del giornale già molto ottimistico e finisce il bullismo fiscale la svolta più diritti al contribuente semplificati i pagamenti limiti alle cartelle il tempo parla della città del quotidiano cioè parla di roma dove la situazione già devastata è diventata totalmente fuori controllo perché c'è stata la chiusura di piazza venezia causa cantiere della metropolitana e tutta la viabilità è completamente bloccata titolo del tempo disastro capitale il collasso dell'urb il cantiere di piazza venezia dà il colpo di grazia la mobilità traffico paralizzato in centro la verità i capi islamici italiani divisi su hamas che cosa pensano le piazze lo abbiamo sentito aprite i confini uccidiamo gli ebrei ma i loro rappresentanti c'è chi condanna nettamente il pogrom del 7 ottobre ma anche chi come piccardo invece lo giustifica dirgolette diritto di resistere in armi alle occupazioni così l'apertura della verità avvenire spinta per la tregua così il quotidiano dei vescovi corriere della sera liberati altri due ostaggi e cerca 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 le suppletive a ecco un riquadrino a centropagina senato entra galliani seconda riga del titolo fugatti vince a trento il fatto quotidiano allora qui su israele va bene vedremo il solito sbocco di odio eccetera le elezioni meglio non parlarne perché non sono andate bene dal punto di vista del fatto allora bisogna trovare il cattivo del giorno il cattivo del giorno è sgarbi sgarbi al governo in cassa e cachè d'oro la legge lo vieta due società per fatturare i compensi da mostre e pre quotidiano nazionale il fisco si semplifica le nuove regole l'unità bibi sempre più solo lo contestano i suoi ministri e gli americani e i sondaggi lo affondano così l'unità la stampa israele fronda contro netanyahu e qui diciamo non vi basterà nemmeno il microscopio ad alta precisione in cui dicevamo prima perché cerca 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 monza ranucci berlusconi ringrazi no giambruno ai danni dei fuori onda giorgia femminista oltre la destra medio oriente chi buzzi il peso della crudeltà giovanna mezzogiorno le vittime della striscia l'intelligenza artificiale picchetto e fitto un anno di meloni le pagelle io costretto a curare pazienti senza esami la rubrica di fede no sulla prima pagina le elezioni non sono avvenute c'era quando eravamo ragazzi c'era un telefilm che aveva successo si chiamava i ragazzi della terza c a un certo punto uno dei personaggi era un grande tifoso di una squadra di calcio un grande tifoso della roma era preparatissimo sulla roma eccetera se nonché partecipa a un quiz televisivo gli fanno una serie di domande a cui risponde perfettamente poi gli chiedono della finale di coppa dei campioni roma liverpool quella persa dalla roma ai rigori e lui dice lui improvvisamente non risponde ma come non risponde perché quella partita non è mai esistita ecco così come per il tifoso della roma quella partita non è mai esistita per la prima pagina della stampa il voto alle suppletive di monza non è avvenuto repubblica si tratta sugli ostaggi eppure qui cerca 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 monza cerca 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 ecco riquadrino nella parte nella colonnina di destra nella colonnina di spalla galliani erede di berlusconi al seggio di monza va bene avete capito l'aria avete capito l'aria che tira le suppletive non l'esito delle suppletive non è piaciuto ai tre quotidiani maggiori ma ricominciamo da libero e dalla serie di segnalazioni che vogliamo farvi il commento elettorale lo firma chi vi parla e si ragiona su diciamo tutta la sequenza dei risultati elettorali della sinistra dopo l'elezione di schlain alla segreteria ed è abbastanza impressionante perché in fiuli venezia giulia hanno perso i 36 punti in molise hanno perso di 26 punti al turno delle comunali di primavera hanno perso dappertutto tranne licenza stavolta hanno rimontato la panna e hanno perso di nuovo e forse farsi qualche domanda su tutta quella campagna di accompagnamento alla schlain presentata come un fattore di riconnessione col popolo della sinistra forse qualche riflessione andrebbe fatta questo ed altro nel mio commento mentre mario secchi fa un pezzo di grande interesse perché vi racconta una serata televisiva la serata televisiva di domenica a urne aperte che cosa faceva fazio da una parte su discovery che cosa faceva ranucci dall'altra e se chi dice e la destra dove sta in tv e badete bene non è il solito pezzo che su un quotidiano di destra c'è di critica rispetto ai programmi televisivi targati sinistra semmai è un pezzo intelligentemente critico nei confronti di chi a destra ha strillato per anni contro l'egemonia culturale di sinistra ma oggi non sembra in grado di fare una controproposta né culturale alta né culturale pop adeguata quindi se chi pone un problema a mio avviso assai sei il racconto elettorale trentino ve lo fa alessandro gonzato monza ve lo fa massimo sanvito mentre oara borselli sente il vincitore delle elezioni a monza galliani fausto cariotti sente la ministra roccella il diciamo il pretesto il gancio di crona che è rappresentato dal caso giambruno a proposito di giambruno brunella bolloli vi racconta come l'ordine dei giornalisti sia già attivo contro giambruno zaccardi e jacometti zaccardi in termini di analisi jacometti in termini di convento vi parlano dei decreti delegati che scaduliscono dalla delega fiscale montesano su le manifestazioni in italia è altro che pro palestina direttamente pro amass mentre carlo nicolato vi racconta il medesimo problema a londra ieri era l'apertura del times la ministra degli interni la home secretary soella braverman che era polemica con la polizia che diciamo lascia che dentro i cortei ci siano slogan selvaggiamente antisemiti claudio smetti sui dati delle espulsioni e in particolare dei tunisini espulsi maurizio stefanini sua mass e il ricatto degli ostaggi mirko molteni su supporto militare usa ma pure i ritardi rispetto a israele nei commenti ancora nicolato senaldi sul canto bella ciao che viene diciamo fatto proprio dalle piazze antisemite succede anche questo tommaso lorenzini sugli eco vandali che adesso se la prendono perfino con i golfisti l'occasione della rider cap storace su una cosa curiosa vi ricordate nei giorni scorsi si era segnalata da più parti sui giornali poi naturalmente il solito berizzi ne aveva fatto una pagina su repubblica dicendo ai fascisti casa pound tutta una cosa di passo dell'oca eccetera grande scandalo perché a lucca la giunta di centrodestra aveva detto no all'intitolazione di una strada sandro pertini e noi stessi avevamo giustamente criticato questa cosa ma come la destra si è bagnata per anni dell'uso politico da sinistra della toponomastica e ora fa il medesimo errore e per carità la gaffa resta però il pezzo di storace sul libro oggi vi svela è qualcosa di curioso che era stata una vecchia giunta di centrodestra dieci anni fa a lucca dire sì all'intitolazione della strada pertini erano state le giunte di centrosinistra a non realizzarla e allora è stata la sinistra a fermare via pertini francesco specchia sul crollo del mito di greta e escluso il tema greta gretini eccetera dai programmi scolastici israeliani ignazio stagno sulle ultime imprese non gloriose di ultima generazione a torino e poi l'ultima segnalazione facciamo una cosa più leggera pezzo divertente di matteo legnani analisi tra biologia molecolare e storia si suppone a questo punto che dracula fosse vegetariano e vedi c'è sempre da c'è sempre da diffidare dei vegetariani no scherziamo per carità sennò poi tocca passare la giornata sui social all'idea non avete sentito niente non non spargete voce va bene queste e molte altre le ragioni per prendere oggi libero il doppio binario della resegna israele e le suppletive israele sono repubbliche corriere a darvi l'informazione essenziale il rilascio degli ostaggi ma per altro verso la dilazione dell'avvio dell'operazione militare ecco qua pagina 2 repubblica paolo mastrolilli biden convince israele rinviata l'invasione si tratta sugli ostaggi e lo stesso tipo di diciamo percorso ve lo fa fare il corriere della sera pagina 2 3 gaza rilasciate due donne gli usa chiedono tempo e c'è anche un focus di lorenzo cremonesi sulle due persone che sono state rilasciate sono due attiviste di sinistra scelte per motivi di salute a massa ha parlato di rilascio per motivi umanitari oggi però la cosa che fa più impressione e veramente dovete prepararvi è perché è scioccante è un meritorio lavoro che fanno repubblica pagina 6 e la stampa pagina 7 che vi danno conto l'hanno fatto le televisioni israeliane delle immagini che sono state estratte da 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 attraverso le bodycam dei terroristi di hamas nel corso dell'irruzione nei kibbutz del 7 mattina ecco qua francesca cafferri su repubblica pagina 6 telecamere sulla strage il filmato dell'orrore che ha sconvolto israele corpi bruciati esecuzioni sommarie servizi atroci l'esercito ha mostrato alla stampa estera le immagini trovate sulle bodycam dei terroristi di hamas e molto crudo ma assolutamente da vedere il reportage a pagina 7 della stampa di fabiana magri isolo alcuni passaggi tra le immagini che scorrono la maggior parte già note circolate attraverso canali social c'è il filmato di una telecamera di sicurezza interna a una casa quindi c'è sia diciamo le bodycam sia le telecamere interne a una delle case che riprende il soggiorno nel cortile dove c'è la stanza rifugio un padre con due bambini tutti e tre e mezzi nudi tirati giù dal letto all'alba dalle sirene di allarme per i razzi e dall'incursione dei terroristi corro nel rifugio inciampando e rialzandosi uno di hamas li raggiunge e spara l'uomo dentro il bunker poi trascina fuori il cadavere sotto lo sguardo dei figli avranno tra gli occhi e i dieci anni lacrime terrorizzati coperti dal sangue del padre sperduti i fratelli tornano in casa il terrorista li segue apre il frigorifero prende una bottiglia di soda e beve la offre ai bambini poi esce e va oltre abbandonati uno dei due si siede sul divano inizia a invocare abba abba papà papà e poi voglio la mamma e l'esito lo lo immaginate le imprese delle belve di hamas ecco tenete a mente questi servizi ogni volta che poi trovate in televisione un commentatore un politico c'è bisogna capire le ragioni di hamas eccole qua le ragioni di hamas i figli con addosso gli schizzi di sangue del padre appena ucciso sotto i loro occhi che che schifo e volete sapere i tre giornali che restano in un'area grigia e sono sempre quelli unità avvenire è fatto unità bibi sempre più solo lo contestano i suoi ministri gli americani e a pagina 2 umberto de giovanangeli sente lucio caracciolo non si possono tenere in gabbia due milioni di persone israele non lo aveva capito e insomma questa incredibile intervista ancora ci fa pensare che come come se fossimo 40 anni fa che il tema sono le rivendicazioni territoriali dei palestinesi non non è questo hamas non pone un problema di rivendicazioni territoriali facciamo ancora finta di rimanere appesi a alla vecchia avvertenza l'unità avvenire che sembra semplicemente preoccupato di evitare che ci sia una stretta sull'immigrazione editoriale integrazione preventiva paolo lambruschi equiparare i migranti in transito in arrivo in italia dei terroristi è un errore anche se in occidente c'è chi si sente sotto attacco chi si sente sotto attacco quindi non è che c'è l'attacco oggi è una percezione e le strette seguritarie che limitano la libertà di movimento ci auguriamo temporanea e sembrano la tassa da pagare alla sicurezza dopodiché l'editorialista di avvenire ci dice che è tutto a posto non c'è problema vedi questo passaggio in 15 anni di sbarchi pressoché in interrotti sulle coste italiane solo due persone sono risultate jihadiste oltre ad ad l'eslam la suede il killer tunisino dei due svedesi ucciso a bruxelles sbarcato a lampedusa nell'undici da un barchino e a nissamri il killer dei mercatini di natale berlinesi nel 16 anche di tulisino era sbarcato lo stesso anno nell'isola pelagica non vi sono prove che la loro radicalizzazione sia avvenuta in italia anzi la suede pare assimilabile al profilo di lupo solitario non è da escludere che altri ne siano arrivati ma pare improbabile visti i rischi mortali del viaggio nel mediterraneo centrale meglio per i jihadisti investire sulla radicalizzazione in carcere o sul web i due canali principali di intrinamento che risultano all'intelligenza italiana alla luce dei fatti anche gli annunci di sospensione temporanea degli accordi di schengen alla frontiera quella orientale da una parte rassicurano con l'attività preventiva ma dall'altra rischiano di alzare il solito muro di diffidenza e sospetto nei confronti dei migranti di fede islamica quindi capito qual è il problema è che si alza il muro di diffidenza ora a parte il fatto una serie di articoli di tommaso lorenzini sul libero vi avevano mostrato che non erano solo due i personaggi arrivati per questa via ma più di due ma a prescindere da questo vi sembra che davanti alla patente evidenza di un terrorista arrivato dal barcone la procedura d'asilo lunga lunga lenta lenta che consente attraverso domanda reiezione della domanda ricorso di guadagnare un tempo enorme fino a 21 mesi per rendersi irreperibili dinanzi a tutto questo si può dire che come fa a avvenire che non c'è problema e che invece il rischio è di alzare il muro di diffidenza sembra incredibile ma questo avviene peggio riesce a fare solo il fatto che la mette così a pagina 2 vi spiega che il problema sono i coloni ebrei coloni all'assalto morti torture e case bruciate quindi il problema poi aspetta arriva il generale mini quello che ricordate prendere sempre le parti della russia nella vicenda russo ucraina adesso cambia quadrante eppure esperto di medio oriente occupazione senza legge colpe storiche israele e usa due pagine poi la rubrica del professore orsini le quattro teorie virgolette morali per giustificare il neocolonialismo e quindi qui la colpa dell'occidente colonizzatore e poi colpo finale marco travaglio il suo editoriale sull'autotrappola di bibi quindi tutta colpa di netaniao e spiega che dopo ogni reazione israeliana il terrorismo è più forte dopo ogni operazione il terrorismo anziché diminuire aumenta e hamas ed esbolla anziché indebolirsi si rafforzano andrà così anche con l'operazione spade di ferro seguita la mattanza di hamas del 7 ottobre resta da capire se netaniao ci è o ci fa ma in entrambi i casi a israele conviene liberarsene subito non dopo l'operazione di terra ma prima per evitarla quindi qual è la priorità è estirpare il cancro dei terroristi di hamas no rimuovere netaniao prima dell'operazione militare così travaglio va bene abbiamo visto unità avvenire e fatto andiamo bene andiamo alla seconda parte della nostra resegna che è quella relativa alle elezioni e qui bisogna fare la cronaca della sparizione del tema e si fa presto abbiamo detto corriere della sera c'è praticamente soltanto un riquadrino sulla prima pagina dopodiché bisogna arrivare a pagina 15 galliani vince ma vota solo il 19 per cento quindi diciamo avendo vinto galliani si sottolinea l'affluenza bassa pure il fatto gioca a nascondere abbastanza la cosa pagina 7 galliani trionfa il primo seggio di forza marina e perché perché c'è stata una nota di marina berlusconi che dopo si è dichiarata contenta e quindi per il fatto è forza marina e aspetta che poi c'è anche la stampa che mette le cose in questi termini in prima non c'è niente ve l'ho raccontata precedentemente la prima della stampa non c'è niente bisogna arrivare alle pagine alla pagina 20 per trovare le questioni la pagina 20 per trovare le questioni elettorali nella metà superiore della pagina per dire che in alto adige c'è stata la batosta della lega quindi alto adige batosta per la lega bundi secessionisti e novax vabbè ma a trento gli ha vinto ha vinto fugatti questa questa notizia è meglio non darla ai lettori della stampa e monza come finisce quattro colonnine di piedino a fondo pagina saranno 1500 battute galliani batte cappato a monza pagina 20 taglio basso aspetta che pure repubblica non scherza c'è un riquadrino in prima piccino piccino picciò poi bisogna arrivare a pagina 16 le destre vincono in alto adige fugatti resta presidente a trento nella pagina accanto pagina 17 galliani eredita il seggio di berlusconi qui dice è parte dell'asse ereditario era era nel testamento gli elettori non si sono pronunciati quindi siamo ancora nella fase del denial della negazione della e che ci sia questo denial ora il governo ci avrà un sacco di problemi ma una opposizione non riesce a vincere un'elezione nel meno nemmeno nel momento più delicato del governo qualche riflessione autocritica dovrebbe farlo invece no la stampa fa due paginoni su un anno di governo con le pagelle per carità il governo sarà balbettante ci sono tanti ministri non all'altezza della spinta di giorgia melotto tutto quello che volete però allora giustizia voto 4 migranti e sicurezza voto 3 cultura voto 4 economia voto 5 5 diritti voto 4 sanità voto 5 cioè tutto sotto la sufficienza c'è solo un 7 in politica estera e un 6 sull'istruzione ora però se il governo è così catastrofico e ciò nonostante vince tutte le prove elettorali qualche domandina bisognerebbe farsela e a me pare proprio di sì ma la stampa non se la fa e invece come sempre il più ragionevole è stefano folli che fa un commento assai a mio avviso da leggere dovrebbe soprattutto la sinistra leggerlo e la mette così in questi giorni si è molto scritto a proposito dello stress ossia del logoramento della presidente del consiglio anche a causa delle note vicende personali si è insistito non senza ragione sui toni retorici con cui lei ha cercato di farsi forza per mascherare sia la fatica fisica sia le difficoltà psicologiche ma c'è da augurarsi che nessuno nelle file dell'opposizione stia pensando di sfruttare questa situazione come scorciatoia per arrivare a una crisi di governo sarebbe un errore per vari motivi alcuni evidenti il centrodestra va battuto sul piano politico ed elettorale non attraverso giochi di palazzo e peraltro sarebbe uno sbaglio forse letale sottovalutare la popolarità di cui giorgia meloni continua a godere nel paese per meglio dire in quell'italia profonda che anche berlusconi nei suoi anni buoni sapeva interpretare meglio di altri e conclude folli addirittura con una previsione anche quando o qualora lo scenario fosse negativo per i partiti di centrodestra guarda che la meloni può essere ancora forte ne deriva che in futuro potrebbe verificarsi una singolare contraddizione un centrodestra che alla lunga paga il logorio quotidiano del governo è una premier che invece attraversa le fiamme come la salamandra della leggenda si aprirebbe una forbice senza precedenti nella storia recente da cui nascerebbe una destra modellata sul profilo e la forza personale del leader più che i tempi di berlusconi e quindi guarda folli mette in guardia lo schieramento di sinistra politica e mediatica da quella negazione da quel denial da quel non voler vedere che invece abbiamo visto altrove questioni televisive io vi raccomando una seconda volta il commento di secchi sul libero e mettetelo in combinato disposto con il fatto che la stampa intervisti ranucci il capo di report quello col nome con il nome nibelungico sigfrido che dice va tutto bene che aspetta che te lo te lo leggo nessuna falsità fonti vere i berlusconi ci ringraziano quindi hanno fatto una puntata per inchiodare berlusconi pure da morto alle sue responsabilità ma ranucci dice ci devono ringraziare mentre il foglio si porta avanti col lavoro e dice guarda che il report starebbe preparando una puntata anche su lollo brigida il sottosegretario all'editoria baracchini è però al centro di polemiche polemiche poste da una nota della stessa giorgia meloni che dice io non sapevo niente della nomina a quanto pare riferibile a baracchini la nomina francamente incredibile ieri alcuni facevano giornale tornare notare oggi ci torna riccardo luna sulla stampa che per un incarico analogo cioè una commissione che deve studiare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale nel regno unito hanno preso un 38enne super esperto di questa vicenda eccetera qui è stato incaricato giuliano amato giuliano amato e su diversi giornali corriere poi giornale cesaretti repubblica pagina 13 si ci si pone il problema del fastidio della meloni rispetto a a questa vicenda peraltro non è da sottovalutare quello è un settore in cui tu dovresti fare avere un approccio non da gabbia regolatoria dovresti chiedere trasparenza degli algoritmi non avere la fretta di una legiferazione eccessivamente restrittiva e costrittiva metterci un iper regolatore come amato è anche un errore culturale ma tant'è da ultimo ai giornali italiani quelli mainstream piace solo la sinistra oggi la sinistra sempre la sinistra mondiale c'è sempre una ragione per diffidare delle cose di destra invece per entusiasmarsi per quelle di sinistra ne volete una prova mauro magatti che si divide tra venire e corriere oggi fa tutto un pippone la polarizzazione tutte queste cose qua e qual è l'unica bella novità che lui vede il leader laborista starmer quindi l'unica cosa bella è una cosa di sinistra in gran bretaglia ad oggi non si può certo dire che sia facile vedere segnali che vadano in questa direzione l'unica novità interessante può essere intravista nel nuovo labor di kir starmer eccoci qua invece argentina si va al ballottaggio ci sarà un peronista contro milei milei è il personaggio che vuole un drastico taglio delle tasse vuole privatizzazioni insomma è un liberista molto spinta è già una cosa miracolosa che in un paese sudamericano un personaggio del genere sia arrivato al ballottaggio che va guardato con a mio avviso con simpatia aspetta guarda come viene presentato dai giornali italiani sul corriere della sera aspetta è che ti faccio questa carrellata velocissima allora sul corriere della sera è antisistema milei e poi c'è un intervista per dire che è un pericolo estremista quindi antisistema e pericolo estremista sul corriere per il messaggero è ultradestra per la stampa è populista per repubblica è ultradestra e perfino sul giornale tu dici vabbè ma il giornale dovrà essere pure per il giornale è ultradestra aspetta che te lo trovo eccolo qua il candidato ultraliberista ultraliberista ci spiega paolo manzo allora capite bene che così vengono presentati come la sinistra britannica la meraviglia come il liberista argentino signora mia è pericoloso l'ultradestra eccetera va bene questa è la ria che tira finisce qui la puntata di oggi di occhio al caffè noi ci ritroviamo domani a tira non dimenticate assolutamente di passare in edicola a prendere libero meglio ancora se andate sul sito libero quotidiano in fondo bottoncino shopping premete vi escono tutte le opportunità di abbonamento se volete poi anche passare in libreria prendere basta con sto fascismo fate proprio avrete una giornata meravigliosa buona giornata a tutti